Sono Renza Barani, sono presidente di Federconsumatori di Modena e ci tenevo in questa occasione, la settimana anche della domotica, a sottolineare l'importanza del progetto a cui noi abbiamo collaborato attivamente, il progetto RELAX che ha coinvolto una serie di strutture ricettive a livello sia locale che regionale, che si sono distinte e hanno deciso di connotare la propria attività anche attraverso delle buone pratiche rispetto al risparmio energetico, mettendo in campo migliorie dal punto di vista proprio strutturale, quindi energia sostenibile, fotovoltaico, così come edilizia che tiene conto della necessità di risparmiare energia e noi pensiamo che questa sia un'ottima pratica che può coinvolgere, anzi che deve coinvolgere la struttura, compresi anche coloro che dalla struttura vengono ospitati, quindi cittadini, in questo caso turisti magari, che nell'occasione della vacanza possono anche imparare quelle che sono appunto delle buone pratiche da mettere in campo, anche quando magari rientrano a casa, quindi l'utilizzo del riscaldamento in un certo modo, con determinati gradi piuttosto che altri, l'accensione e lo spegnimento delle luci, piuttosto che l'attenzione al lavaggio della biancheria e altre cose. Ci abbiamo tenuto, dicevamo, a questo tipo di iniziativa perché pensiamo che, anche se in un momento di crisi economica come questo, possano essere importanti, oltre che per risparmiare, quindi proprio dal punto di vista economico oggettivo, insomma, anche per l'ambiente, intanto perché siamo convinti che la famosa green economy possa rappresentare un ottimo veicolo anche di ripresa economica, ma poi perché il nostro ambiente va assolutamente preservato perché è una fonte proprio anche dal punto di vista economico di guadagno e di interesse per tutti i cittadini.